Onorevole, allora lei di recente ha dichiarato che le Marche sono l'esempio tangibile del fallimento del metodo Minniti. Qui siamo proprio nel posto dove hanno candidato Minniti. Siamo nel posto dove hanno candidato Minniti, oggi però qui ci siamo noi e Minniti invece è la grande moschea di Roma a parlare con gli islamici e quindi ognuno ha le sue priorità. Noi siamo qui per parlare con i cittadini marchigiani, per raccontare come intendiamo garantire sicurezza, incontreremo tutti i sindacati dei corpi di polizia, tutti i sindacati degli uomini e delle donne in divisa, persone che vogliamo aiutare a lavorare in condizioni dignitose, con risorse che intendiamo reperire soprattutto dai proventi dei beni confiscati alla mafia, perché la sicurezza è uno strumento nelle mani dei più deboli, non dei più forti. Immigrazione, sicurezza e naturalmente accoglienza sono temi che vanno a braccetto. Qual è la vostra visione di questo complesso di azioni? La nostra visione è che la sinistra in questi anni ha giocato con il fuoco per fare gli interessi delle cooperative degli amici e per fare gli interessi della grande finanza, perché la grande finanza serviva a far entrare nel mercato del lavoro centinaia di migliaia di disperati per poi rivedere a ribasso i diritti di tutti i lavoratori. Non c'è niente di solidale in quello che è stato fatto in questi anni. Per noi regole chiare, immigrazione e profughi sono due cose diverse, l'immigrazione deve essere e può essere solo regolare. In Italia non si entra illegalmente, punto. Se si devono alzare i muri si alzano i muri, se si devono fare i blocchi navali si devono scavare le trince, scaviamo le trince. In Italia non si entra illegalmente. Si entra legalmente con una cosa che si chiama decreto flussi, che è un documento con cui il governo decide quanti immigrati può ricomprendere per dargli una vita dignitosa e da dove li prende, perché non è irrilevante far entrare 500.000 islamici o magari 10.000 filippini cattolici a casa mia. Dopodiché, per quello che riguarda i profughi, continuiamo a proporre una missione europea con blocco navale a largo delle coste della Libia, impedire la partenza dei barconi, aprire in Africa gli hotspot per verificare chi eventualmente avesse diritto a essere rifugiato politico e poi i rifugiati politici, che sono il 5% di quelli che arrivano da noi, li distribuiamo equamente negli ormai 27 paesi della UE.